Manca meno di un mese al ritorno a Torre del Greco della festa dei quattro altari, lei cosa ne pensa? Ne penso che è bello che dopo tanto tempo finalmente la festa dei quattro altari viene ripresa perché è una tradizione della nostra cittadina ed è importante riprenderla, però fatta in un certo modo. La direzione artistica non la discuto perché non si poteva scegliere di meglio, Gigi Di Luca è editore del Greco, un amico e quindi chi meglio di lui poteva fare. Io mi auguro solo che vada bene, sicuramente andrà benissimo, sarà un successo, lo leggeremo dopo e lo vedremo da TV Siti. Lei che ricordi ha di questa festa? Aiuto e bellissimi ricordi, sia per quanto riguarda gli altari, per quanto riguarda i tappeti e per quanto riguarda anche le manifestazioni musicali che venivano fatte. È una bellissima festa del paese, però bisogna fare le cose più importanti, pulizia, pulizia della città. Se viene a Via Vesuvio, quello è il fiore all'occhiello di Torre del Greco, c'è immontizia, erba dappertutto, è vergognoso, anche per i turisti che vengono, è proprio vergognoso. Le priorità a Torre del Greco restano altre? Sì, sicuramente restano altre le priorità a Torre del Greco. Ma lei che ricordi ha della festa? Diciamo un po' di confusione, a me non è che piaceva tanto. Sembrerebbe che sia una cosa che valga la pena rivedere dopo tanti anni, soprattutto noi più anziani che abbiamo visto grossi fasti negli anni addietro. Ecco appunto, visto che mancano molti anni, quali sono i suoi ricordi di questa festa? Sicuramente un momento di aggregazione, un momento dove la città si riuniva intorno a queste famose strutture di legno che effettivamente il maestro Ciaravolo era uno degli artefici principali. Vedremo, sarà una sorpresa. Meno male, dopo tanti anni si rivede una festa che è di tradizione, religiosa. Quali sono i suoi ricordi di questa festa? Quando ero bambino, le giostre. A noi ci fa piacere perché c'è sempre qualcosa in più, però dovrebbero fare qualcosa ancora più in più. Vale a dire? La domanda te la faccio io a te, che non aprono la cassa marittima di Torre del Greco, che facciano qualcosa in più, si impegna pure il sindaco. Per lei le priorità a Torre del Greco restano altre? Chi va e chi viene possono fare di più, il passato sindaco può fare di più per Torre del Greco perché abbiamo tante di quelle cose, tanto di quel turismo che potrebbe venire, tante di quei soldi che il sindaco potrebbe fare a Torre del Greco, in quantità, che incominciassero a mettere pure i cestini, i cestini per buttare le carte. Sono 18 anni che non la viviamo più, in modo che mettiamo in modo questi magazzini, qualche cosa, pure se ognuno di loro vuole vendere qualche pezzo così, insomma qualche cosa di guadagno, sono tutti vuoti. A distanza di molti anni, lei che ricordi ha di questa festa? È una cosa inspiegabile, non lo so, ricordi belle di allora e si dovrebbe ripivere un'altra volta adesso per vedere quelle che c'è. È una festa che tutti aspettiamo con canando e gioia.